Burrasca dopo il volto in consiglio comunale sull'IRPEF, il PD si spacca e in diversi votano con la proposta bocciata. I comunisti annunciano l'uscita dalla maggioranza. Commando di quattro persone con pistola, rapina la saba pellice di rubiera, rinchiudono il titolare e prelevano 50 pezzi pregiati. Accesa è partecipata l'assemblea dei soci della Coppa e Moratore Reggiolo alla presenza dei vertici della Lega Coppa. In molti chiedono la testa dei vertici. Patto tra comune, commercianti e grande distribuzione sulla liberalizzazione degli orari dei negozi. Niente apertura nelle feste civili e religiose mai prima delle 7 o dopo le 22. Il presidente ampi, gli 84 anni Giacomo Notari, assolto dall'accusa di aver diffamato la memoria del capitano della Guardia Nazionale Repubblicana Pietro Azzolini, ucciso dai partigiani nel maggio 44. Buonasera, politica in apertura di telegiornale. Il PD si è spaccato sul voto riguardante l'IRPEF. Alla fine però, causa anche l'astensione di diversi uomini del centro-destra. L'IRPEF resta sì invariato ma non sarà progressivo, cioè tutti pagheranno lo stesso indipendentemente dai loro redditi. E poi c'è un altro strasci cui i comunisti annunciano di voler uscire dalla maggioranza. I dettagli nel servizio. Non sono bastati i voti di tre dissidenti del PD per far approvare l'emendamento al bilancio, per introdurre aliquote IRPEF più eque. La proposta del grillino Matteo Livieri di introdurre, cioè un criterio progressivo nella tassazione, è stata respinta dal Consiglio Comunale. Anche se si registra, dicevamo, la spaccatura dentro il partito di maggioranza. A favore infatti hanno votato i consiglieri Andrea Capelli, Valeria Montanari e Alessandro Anceschi, mentre altri due uomini PD, Ernesto D'Andrea e Carmine De Lucia, si sono astenuti. L'emendamento dunque è stato respinto, anche perché otto del centro-destra, tra Lega e PDL, hanno staccato la scheda e sono risultati assenti, nonostante fossero in aula. Invece è stata approvata, senza colpi di scena, la delibera sul regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e la soglia di esenzione per i redditi sotto i 15.000 euro all'anno. Il Comune applicherà dunque una IRPEF a deliquote fisse, 0,50 per tutti, a prescindere dalle fasce di reddito in cui il contribuente si colloca. I rincari colpiranno in modo trasversale anche i lavoratori dipendenti e i pensionati che già risentono in busta paga o sulla pensione dell'aumento dello 0,33 dell'addizionale regionale. E non è tutto il Comune di Reggio dei dati pubblicati dalle solle 24 ore e tra quelli che hanno deciso di aumentare l'aliquota IMU sulla prima casa dello 0,5 allo 0,7 e sugli altri mobili dallo 0,7 allo 0,96%. Dicevamo c'è un altro strascico politico su questa vicenda. Donato Vena, che è il segretario provinciale dei comunisti italiani, annuncia l'uscita del suo partito dalla maggioranza reggiana dopo questa vicenda. Così facendo, dice Vena, la giunta del Rio ha penalizzato il 94% dei contribuenti reggiani per difendere 3.209 benestanti del Comune Capoluogo. Vena però se la prende anche con quelli del centro-destra, con alcuni che non hanno votato perché, spiega Vena, avrebbero pagato di più anche loro, quindi lo avrebbero fatto in sostanza per motivi di carattere privato. Animata assemblea dei soci della Coop Moratori Reggiolo. Non sono mancate le accese contestazioni di alcuni soci. Per noi c'era Antonio Lecci. Ci si attendeva un incontro animato e ricco di tensione e così è stato ieri sera nel grande salone del centro polivalente di Reggiolo, completamente gremito da soci dipendenti della cooperativa Muratori Reggiolo, tutti intenzionati a capirne di più sulla crisi di liquidità che sta colpendo la storica impresa della bassa e che vede coinvolti milioni e milioni di euro ottenuti dai prestiti di tanti soci, dando fiducia alla cassaforte di CMR piuttosto che ai conti correnti bancari. Tra la gente si è notata un'evidente preoccupazione, condita però dall'ottimismo legato alla copertura dei debiti attraverso un patrimonio di tutto rispetto, valutato molto prudenzialmente intorno ai 140 milioni di euro a fronte di debiti per una decina di milioni in più, che in teoria sarebbero coperti dagli oltre 60 milioni di euro di appalti, soprattutto pubblici, che la CRM ha già in tasca. Proprio per garantire la valorizzazione della parte positiva della cooperativa di Reggiolo è stato chiesto un concordato preventivo che di fatto congela i debiti ed evita ulteriori emorragie di risorse finanziarie, in attesa che la situazione generale possa rientrare nei pareggi di bilancio. Nel frattempo viene costituita una nuova società, la CMR Edire, a cui aderiscono anche Unieco, Tecton, Parco, Cop7, per portare avanti i progetti e i cantieri della vecchia CMR. A guidarla dovrebbe essere Luca Bosi nel ruolo di presidente, lasciando però il suo posto in comune a Luzzara, dove ricopre il ruolo di assessore. Ai soci prestatori sarà garantita una copertura del credito del 95% e in caso di necessità immediate di liquidità si potrà fare affidamento a una seconda società. In assemblea non sono mancati gli interventi dei soci, rivolto in particolare al presidente CMR Alberto Rebuzzi, ma anche alla presidente provinciale di Lega Copsi, Mona Caselli, e agli autori del piano di risonamento e della richiesta di concordato preventivo, ovvero i consulenti Giorgio Morandi, Adriano Nicola, Giorgio Barbieri e Ilaria Lenzini. Da 0 a 10 a che livello è la vostra preoccupazione? Sette, perché la cooperativa Moratore di Reggiolo è sempre stata presente in Reggiolo da anni e anni, da più di cento anni, e quindi avevamo tutti fiducia che non ci fosse questo periodo di crisi. Quindi noi adesso sentiamo in assemblea cosa si garantiscono almeno i risparmiatori, perché i risparmiatori sono molto importanti in questa crisi qua, quindi noi speriamo che loro almeno garantiscono la possibilità di non perdere nulla. Ottimista, ottimista nel senso che praticano finanziarie, lo speriamo. Ci salterà fuori la CMR quando lei ha le forze per farcela? Speriamo che si salta fuori. C'è chi si è scagliato contro decisioni prese dall'alto senza alcuna informazione preventiva ai soci, c'è chi ha sottolineato gli errori di gestione legati ai massicci investimenti, soprattutto nel settore immobiliare, che sono poi i risultati quelli tra i più colpiti dalla crisi economica. Ma soprattutto la base sociale di CMR ha chiesto una cosa, la garanzia di non perdere i propri risparmi e la possibilità di salvaguardare i 150 posti di lavoro della cooperativa Muratori. Da notte in serata è arrivata una nota della Lega Coop provinciale che garantisce il proprio impegno per salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare il più possibile il risparmio sociale attraverso la Costituzione della CMR ed ILE e con uno sforzo per restituire il 50% del prestito sociale il più breve tempo possibile dopo l'auspicata omologa del concordato preventivo, che prevede comunque il rimborso del 95% della categoria dei creditori. Di crisi in crisi c'è stato un incontro interlocutori in Confindustria per decidere le sorti della Terim, azienda con 400 addetti tra gli stabilimenti di Baggiovara e di Rubiera, tutto rimandato a giovedì 15 quando le parti si ritroveranno sedute a un tavolo. Già ieri i sindacati avevano lanciato l'allarme parlando di rischio insolvenza e quindi di chiusura, qualora non venissero evase le commesse. Da due settimane l'attività è bloccata, i dipendenti quasi tutti a casa, i sindacati proseguono dunque con lo stato di agitazione e un presidio davanti agli stabilimenti. C'è stato, veniamo alle buone notizie, un accordo tra i commercianti, il Comune, la grande distribuzione per quanto riguarda la liberalizzazione degli orari dei negozi della nostra provincia. Ce ne parla Isabella Trovato. Natale, Pasqua ed il primo maggio i negozi resteranno chiusi. Dopo mesi di trattative il Comune di Reggio, che ha fatto da mediatore tra le istanze dei lavoratori del commercio e la grande distribuzione, è riuscito a spuntare un successo garantendo le chiusure in tre festività. Un'eccezione dunque al decreto sulle liberalizzazioni degli orari dei punti vendita voluto dal governo Monti. Di scritto, ancora non c'è nulla, ma la strada è questa. Hanno manifestato la propria adesione. Cop, Consumatori Nord-Est, Conad, Sigma, Rossetto e Lidl. Si sono presi un altro periodo di riflessione, lesse lunghe ed il gigante. Il sindaco però non si accontenta e punta a portare a casa anche le chiusure per il 25 aprile, il 1 gennaio, il 15 maggio e Santo Stefano. Il 2 giugno si dà quasi già per persa. La decisione finale delle catene di alimentari arriverà in occasione della firma del protocollo. Quindi siamo molto felici di questa prima adesione. Un secondo passo che faremo è quello di verificare sulle chiusure domenicali se poter procedere a dei turni. Certamente c'è un preaccordo anche sugli orari, in maniera che tra le 22 e le 7 non vi siano, come dire, aperture selvagge. Intanto, per quanto riguarda le domeniche, bisognerà aspettare settembre, quando i grandi gruppi tireranno le somme delle aperture, invernali e primaverili. Altri disagi per chi viaggia con i mezzi pubblici nella giornata di domani mercoledì 14 per lo sciopero di 4 ore indetto dalle RSU di Sogea. Le astensioni da lavoro potrebbero interessare il servizio urbano ed extraurbano dalle 17.30 di domani, dicevamo, fino a fine giornata. Da domani alcuni volontari di Lega Ambiente cercheranno di verificare con strumenti portatili il livello di inquinamento dell'aria di Reggio, misurando in particolare le polveri sottili, le cosiddette PM5. Sono già 50 i superamenti dall'inizio dell'anno sui 35 consentiti dalla legge. Quest'anno la campagna di Lega Ambiente Malaria sarà incentrata appunto su queste polveri che si possano respirare anche su luoghi di lavoro. E per dopodomani, giovedì, il Comune di Reggio ha confermato il blocco del traffico per gli autoveicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 di domani, giovedì 15. Torniamo a parlare di politica, andiamo in casa dei grillini perché dopo le epurazioni che il leader Beppe Grillo ha fatto in quel di Ferrara ci si interroga anche a Reggio. È stato ospite di Confronti, la nostra trasmissione del martedì e del venerdì, il leader Reggiano e Matteo Livieri. Riascoltiamo in questo breve stralcio l'intera intervista alle 21 di questa sera. Noi rispondiamo appunto alla gente e crediamo che questo principio valga per dare una priorità. E quindi tutto sommato, quando c'è anche da criticare in maniera molto aperta quello che fa Grillo, noi non abbiamo nessun problema. Anzi, riteniamo che comunque la situazione secondo me si ricompa. Ma Tavolazzi adesso è fuori? Ecco, secondo me per me no. Ecco, è qui che si gioca la partita. Cioè per voi Tavolazzi non è fuori, per Grillo sì. Ultima domanda, a questo punto avete paura che se qualcuno di voi espone pubblicamente, come sta facendo anche lei stessa in questa circostanza, il proprio favore nei confronti di Tavolazzi possa essere espulso? Eh, a me non interessa. Cioè lo dico chiaramente nel senso che il Movimento 5 Stelle non nasce per appartenere a un marco, appartenere a un simbolo o essere un partito con questi giochini da partito che è espulsione o non è espulsione, eccetera, eccetera. A me interessa che io, ad esempio, non ho partecipato a questi incontri a cui ha partecipato Tavolazzi, dove c'erano tantissime persone in buona fede, dove le responsabilità erano esclusivamente degli organizzatori e evidentemente di persone che ci avevano girato intorno. Non ho nulla da temere, ma non ho nulla da temere comunque in ogni caso a dire la mia. Questa è una cosa molto importante perché chiunque si vuole avvicinare al Movimento 5 Stelle deve sapere che lo fa, diciamo, dal problema che si ha a portare il bambino all'asilo la mattina fino alle cose più grandi, come possono riguardare, non lo so, le nostre grandi aziende della città e patrimoni che stanno per essere distrutti e lo può fare senza preoccuparsi di quello che dice, si costruisce assieme qualcosa che è già scritto nel nostro programma locale e poi quello che sarà, sarà. Io personalmente non ho paura di nulla. Cronaca, andiamo a Rubiera perché nel pomeriggio c'è stata una rapina alla Saba Pellicce di Via Emilio, un commando di quattro persone, uno aveva anche una pistola, ha legato polsi e gambe del titolare, lo hanno rinchiuso in bagno e sono poi scappati con una cinquantina di pellicce. I carabinieri danno la caccia a questi quattro malviventi che hanno compiuto il colpo, per ora senza esito felice. A dare l'allarme è stato lo stesso commerciante quando si è riuscito a liberare. I malviventi, probabilmente italiani, descritti però con accento campano, hanno agito a volto coperto, sono ricercati per rapina aggravata, un colpo che sembrerebbe essere stato studiato nei minimi particolari, che avrebbe fruttato ai malviventi alcune decine di migliaia di euro. Cambiamo argomento, domani, mercoledì 14, ricorre il tredicesimo anniversario della morte di Monsignor Gilberto Baroni, che fu vescovo di Reggio dal 65 all'86, e dal 70 resse anche la diocesi di Guastalla e dal 30 settembre 86, quando le due diocesi vennero unificate, divenne il primo vescovo di Reggio Guastalla fino al settembre 89. La messa di soffragio, preseduta al vescovo Caprioli con l'ausiliare Ghizzoni, sarà domattina alle 10.30 nella cripta della cattedrale, intorno all'altare dei Santi, Crisanto ed Aria. Cronaca giudiziaria, il presidente dell'Ampireggiana, l'84enne Giacomo Notari, è stato assolto dal Tribunale di Chemona, nelle persone del giudice Clementina Forleo, dall'accusa di diffamazione nei confronti del capitano della Guardia Nazionale Repubblicana, la Repubblica di Salò, Pietro Azzolini, ucciso dai partigiani nel maggio 44. L'azione legale era stata intentata verso Notari dai nipoti di Azzolini, con l'accusa di aver diffamato appunto la memoria del loro caro. Notari aveva affermato che Azzolini sarebbe stato presente a Cervarolo il 20 maggio 44, durante l'ecidio nazifascista, dove morirono 24 persone, secondo i parenti di Azzolini. Nessuna fonte certa riporta la presenza del capitano a Cervarolo. Notari comunque è stato assolto, sono bastati alla Forleo 15 minuti di Camera di Consiglio. Notari poi ha anche deciso che non chiederà un centesimo di risarcimento, nonostante i disagi vissuti per andare da Marmoreto di Busana, dove abita Cremona, in occasione delle tre udienze, me lo avete ucciso due volte, è stato invece il commento della figlia del capitano Azzolini in tribunale dopo la lettura della sentenza. Ci fermiamo per uno stacco di pubblicità. Torniamo in studio, rivediamo assieme i titoli della giornata. Burrasca dopo il volto in Consiglio Comunale sull'IRPEF, il PD si spacca e in diversi votano con la proposta bocciata. I comunisti annunciano l'uscita dalla maggioranza. Commando di quattro persone con pistola, rapina la Saba Pellice di Rubiera, rinchiudono il titolare e prelevano 50 pezzi pregiati. Accesa è partecipata l'Assemblea dei Socii della Coppa e Moratore Reggiolo alla presenza dei vertici della Lega Coppa. In molti chiedono la testa dei vertici. Patto tra comune, commercianti e grande distribuzione sulla liberalizzazione degli orari dei negozi. Niente apertura nelle feste civili e religiose mai prima delle 7 o dopo le 22. Il presidente ampi, gli 84 anni, Giacomo Notari, assolto dall'accusa di aver diffamato la memoria del capitano della Guardia Nazionale Repubblicana, Pietro Azzolini, ucciso dai partigiani nel maggio 44. Torniamo alla rapina di Rubiera. Dovrebbero esserci le immagini perché non ci sono sostanziali novità. I carbinieri sono ancora sulle tracce del comando di quattro persone che in metà pomeriggio di oggi ha assalito. Il negozio Saba Pellice ha rinchiuso il titolare in bagno dopo averlo legato. Ha prelevato 50 pezzi pregiati per un valore di decine di migliaia di euro e poi è scappato. Uno di questi banditi era anche armato di pistola, aveva un accento campano. Dicevamo, dalle prime investigazioni sembrerebbe un colpo studiato nei minimi particolari. Non è la prima volta che il negozio di Rubiera viene assalito dai rapinatori. Questo è l'ultimo appunto di questi colpi. I carbinieri indagano ma ancora non ci sono notizie positive sulla banda dei malviventi che ha colpito ancora la Saba Pellice di Rubiera lungo via Emilia. Ancora cronaca, hanno seminato il panico tra i loro coetanei ragazzi 14 anni mettendo a segno rapini. I carbinieri di Reggio hanno denunciato tre minori accusati di due rapine e una tentata compiute in dicembre. Ora però si trovano in comunità. Le indagini dell'arma hanno consentito di risalire i tre rapinatori in erba. Sono partiti dalle denunce dei genitori delle vittime. I bugli agivano in gruppo, circondavano le loro vittime sempre le stesse. Nei tre episodi contestati le minacciavano e poi le rapinavano. Gli agenti della stradale hanno intensificato i controlli sugli automobilisti, soprattutto nella fascia diurna, scoprendo diverse persone che guidavano ubriache già al mattino. Così un 42enne a bordo di una potente BMW in zona Guastalla e un 38enne sempre Guastalla. Un 21enne di Castanovo Monti invece guidava non solo ubriaco ma anche era positivo all'uso di cannabinoidi e cocaina. Infine un 25enne reggiano fermato dopo aver provocato un incidente sempre al mattino aveva già un tasso alcolemico tre volte il consentito dalla legge. Andiamo a notizie più distensive andando a Guastalla perché c'è stata domenica la 100 miglia delle auto d'epoca tra Guastalla e altri comuni della Bassa. Oltre 100 splendide auto d'epoca domenica a Guastalla si sono date appuntamento per la settima edizione della 100 miglia delle terre gonzagesche, prima prova del Torri e motori 2012. Una gara con oltre 50 prove di regolarità che si snoda lungo un percorso di 130 chilometri tra la bassa Leggiana e Mantovana. Già il sabato sono arrivate le prime vetture, poi domenica mattina la partenza verso Reggiolo, Gonzaga, Pegognaga, Sulzara, Luzzara con rientro a Guastalla per il pranzo della Proloquo al Palazzo Ducale. L'itinerario del pomeriggio ha previsto il passaggio delle auto ad Osolo, Villa Strada, San Matteo delle Chiaviche, Villa Pasquali, Sabionetta, Viadana, Pomponesco e ritorno a Guastalla per le premiazioni. Una gara che ha mostrato una positiva novità, quella della possibilità di utilizzare un roadbook, con una mappa del percorso in braille, consentendo anche a persone non vedenti di potersi cimentare come navigatori. Un'esperienza vissuta dalla bresciana Sandra Inverardi, oltre che dalla reggiana Chiara Tirelli di Gualtieri, presidente provinciale dell'Unione Italiana Cechi, che col suo compagno Emanuele Ferraresi, Sufia 128 SL Coupé del 72, ha potuto dare indicazione all'autista nel corso di tutte le prove previste. Allora com'è questo sistema? Si può navigare e fare da navigatrice anche con dei deficit visivi? Si può, basta essere abbastanza svelti a leggere il braille e avere un po' di dimestichezza magari con l'uso delle macchine, giusto per capire la strada. La corsa si è conclusa poi nel cortile interno di Palazzo Ducale per le premiazioni, poi il rientro delle vetture e dei rispettivi equipaggi verso casa, mostrandosi ancora agli appassionati lungo le strade del territorio. Chiude anzitempo la stagione concertistica dell'Affar, la famiglia artistica reggiana, che da anni propone al territorio concerti di musica classica di qualità. I due appuntamenti d'aprile annuncia il presidente e l'architetto Quintiglio Prodi che non potranno tenersi perché sostanzialmente non ci sono i soldi da pagare gli spettacoli. Alcuni abituali sostenitori dell'Affar, che è un'associazione culturale che a Reggio opera da più di 70 anni, non hanno corrisposto a quanto preventivato, ora addirittura rischia di chiudere l'associazione. Sono aspetti della crisi che si abbattono questa volta sulla cultura. Torniamo all'economia. La Cina è davvero vicina, non è solo un modo di dire, è anche qualche cosa di più concreto da oggi, grazie a una collaborazione tra enti locali, industriali ed università. È una cosa fantastica per noi studenti e anche oppure più maggiore per la relazione tra Cina e Italia. Anche i territori di Modena e Reggio Emilia scoprono il fascino dell'Oriente e danno vita ad un organismo impegnato a costituire più solidi rapporti con la Cina. Si chiama associazione Progetto Cina, vedrà coinvolte molte delle più importanti istituzioni pubbliche e private. Soci fondatori del progetto sono l'Università, il Comune di Modena, la Provincia di Reggio, l'Associazione Industriale di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Gli obiettivi sono ambiziosi, sviluppare rapporti con questa nazione nel campo della ricerca, della formazione, della cultura e dello sviluppo di impresa. Una scelta dettata anche dal fatto che negli ultimi anni il nostro Ateneo ha avuto un incremento degli iscritti orientali, saliti da quota 19 nel 2007-2008 a 74 nell'anno accademico 2011-2012. segnando un più 300% grazie alla crescente immigrazione, ma anche alla maggiore presenza di giovani in seguito a scambi culturali. Si parla appunto oggi di BRIC. Una volta quando si esportava si andava in Germania, in Francia, in Inghilterra, paesi che sono vicini sia da un punto di vista geografico che culturale. Oggi invece bisogna spingersi in aree nuove, che sono appunto l'Oriente, che sono Sud America, e quindi paesi che sono lontani prima di tutto e anche da un punto di vista appunto culturale lontani. Quindi noi come associazioni di categoria, di imprenditori, abbiamo l'obbligo di far crescere queste imprese, accompagnarle, quindi sempre più missioni verso questi paesi, sempre più scambi di collaborazione. Ci fermiamo per l'ultimo stacco di pubblicità. Uno sguardo alle previsioni del tempo sulla nostra provincia per domani, mercoledì 14, sia al mattino che al pomeriggio. Ci sarà il sole, dunque sereno tutta la giornata, temperature ancora in aumento, almeno le massime andranno, da un minimo di 2 gradi al mattino. Le massime pomeridiane invece saranno comprese tra i 13 gradi sui rilievi e addirittura i 21 gradi in pianura. Dunque aumentano ancora le temperature. Velocità massima del vento compresa invece tra i 16 chilometri orari sui rilievi e i 17 chilometri orari in pianura. Queste le previsioni del tempo per domani. Il meteo è stato offerto da Otton Let vi aspetta nella sala mostra presso lo stabilimento a Cortetegge di Reggio Emilia. Otton Let vi attende anche nel nuovo centro materassi con le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. Dunque qualche appuntamento prima di vedere i titoli. Oggi è il No Cocaine Day, cioè il CES di Reggio e il CERT. Servizio Tossico Dipendente promuovono una serie di incontri inserate in diversi comuni per informare sul tema grave della cocaina. Appuntamenti a Reggio, al CEIS, a Guastalla e a Scandiano in Comune e a Sant'Ilario invece al Centro Culturale Mavarta. Restiamo a Reggio perché inserata al Centro Simonazzi di Via Turri ci sarà un nuovo incontro sulla Costituzione viva. Questa volta si parla della nuova forma di governo col professore Andrea Morrone che insegna diritto all'Università di Bologna. Torniamo in provincia, andiamo a Bagnolo perché sempre in serata al Maki Pub ci sarà una presentazione di un volume contro le nuove schiavitù. Si chiama la dignità non si tratta e rivolta la presentazione soprattutto agli under 18 e giovanissimi dunque per sensibilizzarle su questo tema scottante a livello internazionale. Siamo in chiusura prima di salutarci però ancora una volta uno sguardo ai titoli del giorno. Burrasca dopo il voto in Consiglio Comunale sull'Irpef, il PD si spacca e in diversi votano con la proposta bocciata. I comunisti annunciano l'uscita dalla maggioranza. Commando di quattro persone con pistola, rapina la saba pellice di Rubiera, rinchiudono il titolare e prelevano 50 pezzi pregiati. Accesa e partecipata assemblea dei soci della Copp e Moratore Reggiolo alla presenza dei vertici della Lega Copp. In molti chiedono la testa dei vertici. Patto tra comune, commercianti e grande distribuzione sulla liberalizzazione degli orari dei negozi. Niente apertura nelle feste civili e religiose mai prima delle 7 o dopo le 22. Il presidente ampio, 84 anni Giacomo Notari, assolto dell'accusa di aver diffamato la memoria del capitano della Guardia Nazionale Repubblicana Pietro Azzolini, ucciso dai partigiani nel maggio 44. Qui si chiude il nostro tg pomeriggio della sera. Grazie di averci seguito e vi mandiamo ai nostri prossimi appuntamenti informativi.